Sì perché non c'è solo il personale docente e il personale ATA preoccupato dei contagi ma anche i genitori e Lorenzo Gasparrini che rappresenta l'Istituto Federico Caffè ci racconterà qual è il disagio di avere dei figli che non vanno forse in luoghi sicuri Grazie e buonasera, innanzitutto ci tengo a dire che non lo rappresento ovviamente ufficialmente sono un genitore che ha un figlio Federico Caffè qui a Roma, un altro alle scuole medie e raccolgo le loro opinioni, quelle dei loro compagni in più anche perché per la mia attività professionale occupandomi di questioni di genere sono settimane e mesi che entro nelle scuole attraverso questo mezzo informatico e vengo a sapere da altri genitori e da altri ragazzi chiacchierando informalmente tante cose riguardo questa situazione quello che ho raccolto è un generale stupore, sgradevole stupore per il fatto che questa retorica di cui stiamo parlando in fondo fin dall'inizio del nostro incontro stasera continua a non toccare alcuni argomenti che invece sono piuttosto importanti per tutti loro e che soprattutto dà costantemente ed esclusivamente un'immagine negativa della DAD senza raccontare qualcosa che evidentemente minoritario non è se continua a essere raccontato da molti ragazzi per esempio il fatto che c'è qualcuno tra i ragazzi e tra i genitori che la DAD la preferisce e la preferisce perché vede che accadono delle cose in quest'altra modalità per quanto fatta male, per quanto organizzata approssimativamente per quanto gli stessi docenti non sono stati evidentemente ben formati su questo altro strumento qualcosa di positivo accade per esempio qualcuno ha registrato una maggiore attenzione alla lezione perché ovviamente la situazione della DAD non è disturbata da quegli elementi di presenza nella classe che pure ci sono normalmente nella didattica in presenza e per lo stesso modo qualche ragazzo mi ha detto molto tranquillamente che preferisce questa modalità perché non è a contatto con quel compagno che lo prende in giro quel compagno che lo bullizza, quella situazione di difficoltà, di ansia e di stress che ovviamente nel privato della sua stanza e del collegamento non c'è altra cosa che non viene raccontata è il fatto che la retorica sul calore umano e sul fatto che la didattica in presenza ha questo valore in più del contatto e della vicinanza umana è piuttosto mortificato da una situazione di fatto nella quale quando si va in presenza per esempio in queste ultime settimane si è costretti a stare con le finestre aperte con una temperatura bassissima quindi si è vestiti sostanzialmente come schimesi con la mascherina anche il docente ha una mascherina quando non ha anche lo scudo di fronte il viso anche lui è ovviamente vestito in maniera molto pesante per via delle temperature basse calore umano diventa solamente un'espressione per fare sarcasmo perché in realtà di calore umano come prima di me è stato raccontato poi diventa difficile muoversi potersi muovere potersi esprimere non è assolutamente questo modo appropriato di raccontare quello che accade malgrado sia così presente sui media generalisti altra cosa che ho registrato è il fatto che si parli soltanto sembra che si parli soltanto adesso di alcuni problemi preesistenti nella scuola argomenti già toccati in fondo la dispersione e altri argomenti di questo tipo come se non solo solo la data li avesse scatenati ma causando in molti genitori come dire che prima non erano evidentemente dentro questi problemi un surplus di stress perché se loro stessi non erano informati da prima su certe situazioni scolastiche e vederle comparire solamente adesso in questa occasione con questa spinta retorica molto forte sui mezzi di informazione crea delle inutili tensioni come se appunto tutta una serie di problemi fossero stati generati solamente adesso dall'arrivo della DAD mentre invece sono situazioni che la scuola conosce molto bene da molti anni ma se non sono state mai raccontate propriamente queste situazioni mi sembrano in maniera allarmistica essere generate solo adesso un'altra cosa che ho riscontrato e che ha generato molto sconcerto è il fatto che ci si è accorti da subito in quanto genitori si è capito subito in quanto genitori che la scuola non è un luogo sicuro e non lo può essere non tanto perché qualcuno manca di applicare in maniera tremenda l'infausto protocollo che è arrivato dall'alto ma per il fatto che il concetto di luogo non ha molto senso perché tutti hanno capito fin da subito che i ragazzi e gli stessi docenti per esempio non piovono nella scuola da nulla attraverso un teletrasporto si verificano per andare a scuola tutta una serie di situazioni che se non sono controllate quelle portano dentro quel luogo che dovrebbe essere sicuro quello che non ci dovrebbe stare lo dico anche da genitore che ha avuto il covid insieme a mia moglie insieme ai miei due figli e essendo noi confinati in casa già da molto prima è stato abbastanza facile capire chi l'aveva portato in casa non ci sono molte altre spiegazioni come anche poi i dati una volta che vengono letti per bene riassicurano un'altra cosa che ho visto lasciare molto sgomente i genitori e i ragazzi stessi quando si parla di questa situazione in virtù di quello che è successo nelle ultime settimane è stato per esempio sui mezzi di informazione l'uso della parola sciopero per queste manifestazioni che stanno creando e mettendo in atto gli studenti e le studentesse nessuno di loro ha detto che non vuole più andare a scuola o non vuole fare più attività didattiche vuole farne una sicura e quindi perché chiamarlo sciopero? nessuno ha detto che non vuole più la scuola si tratta di farla in maniera sicura allora perché attribuire questa volontà di non studiare di non voler apprendere, di non voler continuare la scuola che è dietro la parola sciopero è molto scorretta, molto sbagliata e molti ne hanno sofferto tra l'altro creando anche molto spesso delle miscomprensioni tra i genitori stessi e tra i genitori e figli perché c'è stata una sorta di accusa reciproca su cose che in realtà nessuno voleva realmente fare altro problema che ho riscontrato è il fatto che il malessere e la situazione di disagio che tanti ragazzi stanno provando è stata automaticamente attribuita solamente come dire all'arrivo della DAD senza poi capire bene in effetti che cosa si trattasse e non a un complesso di situazioni nella quale gli stessi ragazzi si sono venuti a trovare che in fondo dello strumento stesso lo strumento stesso c'entra poco con questo complesso di situazioni innanzitutto è evidente che gli stessi ragazzi e gli stessi genitori si sono accorti che c'è stata una palese disorganizzazione e una palese mancanza di competenze nel gestire questa situazione questo è apparso chiaro a tutti e che questo non fosse colpa del personale docente ovviamente del personale della scuola in sé che è evidente che non ha avuto né il tempo né il modo di formarsi a questa nuova situazione qualcun altro ci doveva pensare e cosa che è stata già raccontata fino ad adesso evidentemente non l'ha fatto non ci ha pensato quando sento dire ancora da tanti che i ragazzi sono tristi i ragazzi soffrono perché non socializzano io mi domando ma glielo avete chiesta che socializzazione vogliono e vorrebbero perché quello che a loro manca è sicuramente qualche cosa che riguarda indubbiamente la socializzazione ma che forse non è esattamente il ritorno a un prima che tutto sommato non avrebbe forse molto senso attuare adesso anche loro si erano accorti che questo prima già di suo non funzionava granché bene e questa situazione non ha fatto che acuire quei problemi già preesistenti quindi forse sarebbe il caso di cambiare completamente l'idea che abbiamo anche della socializzazione è una cosa che mi è venuta in mente quando molti ragazzi mi hanno detto che hanno finalmente capito che quella definizione di nativi digitali che continuiamo a dare a queste generazioni più basse come se, tra virgolette, diciamo così fossero generazioni nate e imparate delle questioni digitali in realtà non lo sono affatto grazie alla DAD hanno capito come funzionano tutta una serie di strumenti e hanno cominciato a usarli più propriamente rispetto a come facevano prima in questa occasione in quel prima, in quella normalità di cui tanto andiamo parlando non ce l'avevano avuta quindi come è stato detto fino adesso forse sarebbe il caso di parlare un po' meglio di tutto quello che è successo intorno al fenomeno DAD e non soltanto di come dire non soltanto accusarla di qualcosa di cui non solo non è causa ma forse è stato effetto e non causa io continuo a raccogliere opinioni molto contrastanti e in genere ritengo che la confusione è dettata da una mancanza non solo di generale informazione su quello che succede ma di come dire reale coerenza tra dati e realtà come dicevamo prima come è stato detto prima quando mancano i dati ciascuno può dire la sua e adesso è sempre più palese il fatto che qualcuno non vuole evidentemente raccogliere dei dati vuole esprimere più chiaramente questa mancanza dei dati perché si vedrebbe subito che questo autorizza dire la qualunque e non l'autorità che qualcuno si dà che qualcuna si è data sulla base sostanzialmente di nulla questo volevo dire grazie